su tinder se paghi ti contattano o ti notano ragazze e donne buongiorno o buonasera a voi utenti di youtube oggi mi trovo qui per fare questo video dedicato all'amico o al fan che dir si voglia che sul tubo si fa chiamare limor touch ma che all'anagrafe si chiama stefano il buon stefano poco tempo fa ha donato soldi in una mia live serale e mi sento obbligato nel realizzare questo video di oggi innanzitutto che cosa è tinder tinder per chi non sapesse che cosa sia è una app di incontri quindi è un'applicazione che è disponibile sia per android che per ios per smartphone che per iphone grazie alla quale si ha la possibilità di mettersi in contatto con qualcuno quindi con una persona di genere maschile e o con una persona di genere femminile va bene ora come ho sempre detto in molti dei miei video se una donna si iscrive a tinder ha dei risultati perché comunque la contattano un sacco di uomini un sacco di ragazzi si ritroverà fior di match fior di like fior di messaggi nella posta privata se un uomo invece si iscrivesse si iscrive a tinder beh quello stesso uomo etero a mio avviso riceverà ben poco ok e questa è una mia opinione che ho sempre diffuso nei miei video ora e ripeto ancora ora stefano questo caro fan questo caro follower che mi segue sul tubo ed anche in altre piattaforme mi ha informato che in qualche modo in qualche maniera tinder è un'applicazione che sfrutta un suo caro amico e questo amico gli ha fatto vedere che ci sono un sacco di ragazze di donne che hanno fatto il match gli hanno messo il mi piace lo contattano e qui di seguito il problema è che questo caro amico ha pagato l'app in questione che significa questo caro amico ha pagato l'app in questione significa che ha pagato i crediti cioè per utilizzare appieno l'app in questione questo uomo questo ragazzo ha messo mano al portafogli e ha sbloccato determinate funzionalità funzioni in più come quella per esempio di scrivere ad un numero più elevato di ragazze o di donne o di diventare tra virgolette più evidente sul social o meglio sulla app in questione va bene io poi mi sono ricordato che il tempo fa anche un mio amico che conosco quindi dal vivo non è porfo 90 sia ben chiaro è un altro ragazzo che conosco da diversi anni mi fece vedere il suo tinder perché io dissi pubblicamente guarda secondo me tinder è inutile perché noi a noi che siamo uomini caro amico mio caro bello mio non serve a niente perché mi chiese questo ragazzo perché per noi che siamo uomini non abbiamo la possibilità di inzuppare il biscotto noi non veniamo notati noi caro amico mio non abbiamo la vulva in mezzo alle gambe non abbiamo la simpaticissima e dolcissima nonché amabilissima patatina la patonza va bene noi siamo muniti di fatto de facto di un simpatico un simpaticissimo membro va bene e come disse il buon davide di porto al simpatico simone scicalone tu bello mio col membro te ci pulisce il sedere ok puoi avere anche la bellezza di un garco di uno scamarcio ma tu ricordate che hai un membro in mezzo alle gambe tu c'hai un coso ok la patata ti da un sacco una che c'ha quella la ci fa tutto con quella una donna una ragazza ci paga dici ci paga i bollette ci paga il funerario suo e degli amici suoi dei parenti con quella una donna ha svoltato va bene con quella con quella cosa che c'è in mezzo alle gambe una donna una ragazza fa soldi al parate si può mantenere no in una vita sola si può mantenere anche in tre quattro cinque vite diverse va bene non avrà problemi economici di fatto de facto va bene e io ho detto e ho pensato tra me e me porca miseria il buon davide di porto è un profeta cioè è un uomo lungimirante ha ragione porco giuda porco porco giuda davide di porto ha pienamente ragione e ripeto che anche questo ragazzo che conoscevo dal vivo che conosco dal vivo mi piace vedere il suo tinder tempo fa un annetto fa guarda qua guarda qui io sono andato a vedere effettivamente è vero pure lui aveva qualche match delle ragazze che rispondevano ma lui anche aveva pagato quindi qual è il trucco per eventualmente riuscire di fatto de facto a trovare una che ti parla o meglio una che magari ti risponde a ciò che tu le vai eventualmente a scrivere pagare tira fuori i soldi tirare fuori la pecunia tira a fare i sardi tira fuori la pecunia e vedi che ti rispondono ma se non tira fuori i sardi se uno sblocca determinate funzionalità in più di fatto de facto se la prendi in del q lo va bene quindi il caro stefano come si dice si conta il bel falcino si conta la bellezza su questo non vi è dubbio di sorta ma conta anche il fatto di dover pagare l'app in questione tinder per sbloccare qualcosa in più per diventare evidente per riuscire a scrivere a più ragazze possibili sperando che magari qualcuna riesca di fatto de facto a rispondere a risponderti sull'app in questione io ovviamente caro stefano te lo dico tranquillamente e serenamente ho i miei dubbi perché pur comunque avendo pagato immagino che non avrò risultati non è che mi verranno a rispondere ragazzi o donne sì ci posso pure provare ma comunque resta il fatto che la paura di non avere comunque un successo di non avere comunque una possibilità in più in me resta costante e resta lì dove si trova va bene comunque questo è il mio punto di vista sia ben chiaro stefano mi ha manifestato una situazione reale autentica mi ha fatto sapere che questo suo amico è un bell'uomo un bel ragazzo caro stefano contasi il bel fascino ma su tinder conta il dare soldi all'app in questione per ricevere messaggi per ricevere risposte e per ampliare il bagaglio esperienziale di chat che eventualmente si possono avere in luogo ciao da leandro conosciuto l'italiano iscrivetevi al canale ciao stefano di mortac grazie per aver donato e ciao a te